Sono arrivate le magliette, finalmente finalmente sono arrivate anche a noi Ci daranno la forza di sopravvivere oggi su venerdì 13 Perché proveremo a giocare una partita online con delle persone a caso E proveremo a fuggire sperando di essere quelli che sopravvivono ovviamente Buona fortuna a noi stessi E ragazzi come va? Io sono Ferinich E io sono Stef che è oggi che è venerdì 13 E abbiamo deciso di riportare questo gioco Avevamo tantissima voglia di giocarci Quindi abbiamo detto perché non farci un altro video? Però questa volta siamo soli soletti Siamo in una partita totalmente a caso E vogliamo vedere come va Quindi allora prima di tutto l'obiettivo è trovarci Ferin che zona sei? Io sono vicino alla macchina C'è solo una macchina quindi non è facile Cioè mi dovresti trovare facile facile Oddio siamo dall'altra parte Io sono praticamente quella casetta dall'altra parte Sì Il punto più lontano? Esatto la casetta più lontana da te Questo è un ottimo inizio Allora ci vediamo al posto giallo va bene? Ok Cerca di muoverti piano per fare poco rumore Eh ci sto provando ci sto provando Perché non vorrei che Jason ci trovasse Perché lo sai dentro una casa ce la possiamo giocare bene Ma quando siamo all'aperto si rischia davvero tanto Assolutamente sì Stiamo attenti allora ci vediamo tra poco Ferin arrivo correndo Ferin è qui vicino Stef Lo so Accendi la luce No spegni le luci No perché così almeno vediamo Non calpestiamo cose brutte Ferre Ma che lì c'è pupù Ferre Oddio lo senti vicinissimo Ferre stendici spugli Stendici spugli Ok arrivo 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 Fere ciao Allora io per venire qui da te Come stai? No 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 Stef parliamo un attimino seriamente Ok Io per venire qui da te non ho esplorato nessuna casa Quindi non ho niente di niente Oddio chi è stato? Ero io Tira di scendervi torcio in faccia Vieni Ferre forza 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 Muoviamoci in X anche io non ho minimamente nulla Ma qua c'è l'albergo e teoricamente c'è tanta roba Quindi entriamo lì rapidissimi Teoricamente anche questo capannone è buono Però secondo me è molto aperto E ho paura di esplorarlo con gel Anche secondo me Temo la stessa identica cosa Quindi per non rischiare Andiamo qui e speriamo di trovare qualcosa Ferre Allora apro la porta Vieni dentro Vieni dentro Vieni dentro Sto correndo piano Questa purtroppo non possiamo barricarla Cerchiamoci qualche bello oggettino Iniziamo a prepararci alla fuga Allora io ho trovato il fucile a pompa Quindi direi Che siamo a cavallo E mi prendo anche questa No non posso Non posso Devo tenermi solo fucile Va bene va bene dai Fucile comunque è stra buono Per una volta quando lo incontreremo Potremo facilmente fuggire Quindi va benissimo Esatto Allora Buongiorno signorina Io preferirei stare senza di lei Però ormai è entrata Quindi dobbiamo ospitarla Abbiamo un ospite Ma ma ti sei unito qualcuno Sì è venuta una signorina E ci tocca per forza ospitarla Ma faccio usori Stef Se vuoi sì Se vuoi sì Guardi presto il fucile No aspetta 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 Non sprechiamo colpi dai Che ci possono servire Solo per quello Per qualcosa di più utile Che se qua entra Jason Allora usiamo lei come scudo umano Ah Vai prendi lei E noi scappiamo Hai ragione Hai ragione Hai ragione Comunque qui c'è il coso del telefono Da sistemare Quindi se troviamo il fusibile Possiamo sistemare il telefono E chiamare la polizia Però Non credo che sia qui Allora infatti qua c'è il telefono Il fusibile Uffere Sta in contro Sta in contro Tutti i bassi Zitti Dov'è me lo segna? No me non lo segna Sì sì è lontano È lontano È lontano Ok perfetto Siamo tranquilli Siamo tranquilli Allora ho trovato una cura Che la stavo cercando da un po' Perfetto Vorrei anche dei coltellini svizzeri Per poterci difendere Io ne ho trovato uno Bene Fede Bene 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 Quindi ce l'ho e mi posso difendere Allora devi stare un po' più in prima linea Rispetto a me nel caso Grazie Stef Fede è una questione di coltellini svizzeri Vabbè io non ho paura come te Io sono prontissima Vabbè Sono trallenata quindi Non c'era bisogno di insultarmi Non ho paura come te Questa è totalmente inutile Ma me lo prendo lo stesso Qua non c'è nulla Tu chiudi la porta Che fai Signorina Signorina No io l'ammazzo Stef L'ammazzo L'ammazzo No Ferry dimmi se devo ammazzarla Oh mamma mia Ma perché non capite mai nulla To ti chiudo fuori Vai via Vai libera per te stessa Arrivederci Vai a farti uccidere To chiudo che la porta chiave Arrangiati Non lo so che sta facendo Stef Vattene Allora non vogliamo morire Per colpa tua Perché quando giochiamo online Noi troviamo solo persone strane Perché è sempre così È l'emblema del giocare online Ferry ma è entrata dalla finestra Oddio Ma perché non ce la togliamo di torno Stef Andiamo Dai Muoviamoci Ferry ha acceso pure la radio Ferry vai via Ferry vai via Ferry vai via Sei un idiota Te lo devo dire Ferry scappa No vattene Non ci seguire No Stef l'ammazzo eh Ferry Stef è vicino Ferry dov'è Ferry dietro di te No Dietro di te Scappa Lo picchio Lo picchio Lo picchio Vai 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 Mi ha preso con un coltellino Ferry Sto cercando di picchiarlo Ok 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 Sto piazzando trappole Sto disgraziato Io vado nel capanno Vai lo stesso Stef Corri 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 Oh mamma mia che paura Stef aiuto aiuto Allora cerco di recuperare energia Mi vedi? Sì Allora cercami una trappola Eh che cosa ti devo cercare Oh mamma mia Ma perché mi devi mettere Una trappola da piazzare Perché così lo blocchiamo E noi scappiamo via Eh ci provo ci provo Non so come ci stia qui dentro Ferry sta arrivando Come sta arrivando Ferry Dai ti prego Vabbè io ho il fucile pronto Ok Quindi se si vuole avvicinare Lo sparo Oh cavolo Ferry Dov'è? Non lo so È dietro di me È dietro di te Gli do una mazzata Vai Corri Corri Spostati Non gli ho dato nulla L'ho mancato Ma come Mi ha preso Ferry Non lo prendere Vai via Ferry Addio Ferry Non lo posso colpire Mi dispiace Ferry credo che sia Dietro di te Da qualche parte Però non lo vedo Allora io voglio proprio dirlo ufficialmente Quel tizio È colpa di quel russo Ci ha fatto morire Ha acceso la radio E l'ha fatto Capito Ci ha fatto notare In tutto Tutto il campeggio Cioè è colpa sua C'è da dire che io potevo Non mancare quel colpo di fucile Allora è colpa di lui Ce l'hai La vedi? Oh cavolo Cavolo Non posso più correre Stef Sono troppo stanca Penso che sarà la mia fine Se ne sta andando Da un'altra parte Ferry Oddio mi sta lasciando Sì Oh mamma mia Sì sì Che ha sentito Che era colpa sua Ed è andato Allora è colpa sua Quanto tua però Quindi non fare tanto Stai fermo un attimino E recuperati l'energia Guarda la mappa E decidi dove andare E abbasso qua Esatto E non lo so Dove andare perché Sono messa malissimo Sono quelle due casette vicine Ma sono abbastanza lontane Quindi Sono messa male Ma per ora hanno fatto qualcosa Per fuggire Ferry Cioè c'è qualche player utile In questa partita Allora l'unica cosa Che hanno fatto Sei qual è Chiamare la radio Per Tommy Jarvis Finito Finito Non posso risuscitare Come Tommy Jarvis Grazie Così magari faccio l'eroe E voglio di nuovo Allora io non ti vorrei dare Una brutta notizia Ma ha ucciso 5 persone su 7 Dove sei Ti spacco la faccia Allora Dove sei Ferry Continua a cercare il fusibile Anche Se ormai fuggire È semi impossibile Della benzina Si sono fatti tutti ammazzare È vero Cioè non hanno fatto Nessun piano di fuoco No no Sono proprio scarsi Vieni combattiamo Dai Ferry Vai a combattere Vai a combattere Tanto Ferry Usa il coltellino Ferry Bravo Addio Addio Brutto Jason Scappo Scappo Perché non te la prendi Con l'altro Credo che l'hai fatto Arrabbiare abbastanza Fammi scappare Jason dai Adesso ho scapito Sono nel panico più totale Non vedo niente Sarà molto Allora io ti sto guardando Le spalle E secondo me Lui adesso Si teletrasporta E infatti ha cercato Di acchiapparti Ma ti ha mancato Dietro di te Ti sta tirando coltellini Li ho sentiti Stef Grazie Il problema è che Come mi ha Schiappato Ho perso l'arma Quindi adesso Sono a mani nude E riesci a trovare Qualcosa al volo Ferry Almeno una morte Da combattente Te la voglio vedere Attenta Ferry No 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 Non lo sarà Stef Mi spiace Facciamo un'altra partita Forza Facciamo un'altra partita Ferry Ti hanno lanciato Da finestra Purtroppo è finita Che brutta fine Ferry Dimmi C'è un problema Quale Diciamo che c'è un problema Più per te Che per me Cosa vuol No Stef Che vuol dire Premi tab No Stef Dai Perché deve capitare Non lo so Ferry Allora Allora Facciamo così Ho un piano geniale in mente Ok Tu ammazzi tutti E poi mi fai scappare E io cosa ci guadagno Esattamente Ferry L'importante è quello Ma io Vorrei guadagnarci qualcosa Cosa sarà questo patto Ferry Se non ci guadagno nulla Non mi piace molto Cosa vorresti Allora Vorrei Una vacanza al mare Perché Sono un po' stanco Ma tu sei Jason A te il mare non piace Scusami Ferry è noto come uno squalo Quindi mi piace un sacco No non ti piace Comunque mi stai distraendo Lasciami lavorare Allora Buongiorno Non sei tu vero No io non ti vedo vicino Quindi no non sono io Ok ok Meno male perché Mi stai confondendo con qualcun altro È vero è difficile Mi stai confondendo con qualcun altro Allora io non so che fare Perché sicuramente non so come giocarmela Questa partita E tu pensa a fuggire Io Cerco persone a caso E faccio quello che mi ha fatto Perché io vorrei Capito Vorrei Fare con te Eh lo so Secondo me è appena uscita di casa Però devo capire da dove Signorina Buongiorno signorina Poverina Venga qui Non entrare in quella casa Non ci provare Brava Bravissima Ma Che succede Racconta Si è lanciata dentro la casa Spaccando il vetro Era proprio disperata Aveva paura Scusa che pretendi E io spacco anche qua Venga qui Venga qui Aia Ma Fare Mi ha dato un colpo Adesso sta scappando Però l'ho presa Giusto Ciao signorina Ci vediamo alla prossima giornata Qua dentro Buongiorno E' un maschietto E' un maschietto Quindi non puoi essere tu Spacchiamo tutti i vetri Ah due persone E qua faccio strike allora Bel colpo questo Stef Bel colpo Ciao belli E siete ancora dentro entrambi Per di più Uno dei due ha la benzina Quindi E' ancora più utile Da stendere Eh sì 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 Perché posso bloccare il suo piano Allora ci sono altre Finestre Di sicuro vi spacco anche la luce Perché così nel dubbio Vi do proprio fastidio E siete ancora dentro Ma qua c'è la porta aperta Buongiorno C'è la porta aperta Sì fare hanno sbagliato Allora Aspetta però C'è un po' di buio Qualcuno può accendere una luce Scusate Tecnicamente nessuno ti vuole vedere Guarda mi dispiace che te lo dico Ciao signorina No ma signorina stavo prendendo Stavo prendendo un coltello E la signorina mi ha fatto un cefone fare Ah eccola 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 Aspetta Faccio un assedio Cattivissimo Tipo Ciao bella Goodbye No aveva il coltellino svizzero Maledetta Cattivittoria Cattivittoria troppo presto Cattivittoria troppo presto E lo so però Pensavo di avercela fatta Perché stava fuggendo tantissimo Come se fosse la sua ultima chance Ed è entrata in questa casa Perfetto E la seconda signorina è andata Adesso ne vedo altri due Secondo me Sai che una delle due sei tu? No no non puoi No non puoi Allora Sei in una casa abbastanza grande in legno? No 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 sicura? Sì Sono sicura Ok Ok allora Vado ad assediare quella casa E chi c'è dentro c'è E via Ok Ma tu come stai andando? Cioè stai trovando qualcosa per fuggire? Purtroppo no Allora ho visitato tante case Appunto nella speranza di trovare qualcosa Per elaborare il piano Certo Certo Guarda io ti dico Hai anche dei compagni abbastanza bravi Però mi sa che tutti non stanno trovando niente di utile E quindi è una partita abbastanza sortunata Eh sì Allora Buongiorno signore Anche perché ho visitato tanto Quindi neanche a dire che ho visitato poco Eh mi spiace Mi spiace Eh purtroppo Mi spiace vincere così facilmente Allora Non è detto che tu vinca Non è detto Vedremo Vedremo Non è detto Stefano Allora Dov'è il signorino? Dov'è? È scappato da qua? O è rimasto dentro casa? È rimasto dentro casa e sono in due? Ma che bella notizia che ho Allora Ok Io vi vorrei colpire con un coltellino Perché così siete feriti E siete in difficoltà No però non ci riesco Quindi inizio a spaccare la porta Voi dovete per forza uscire da una finestra distrutta E quindi diciamo che sarete molto lenti a fuggire Vediamo cosa fate adesso Ah mi volete C'era una trappola Mi ho teso una trappola Sì Eh vabbè te lo sei meritato Dove? Mi ho provocati scusa È normale Sono scappati entrambi? È normale Ma cosa volete fare esattamente? Spiegatemi Sono molto più veloce di voi E vi state anche allontanando l'uno Aveva dei petardi? Stef Sono armati Le hai detto anche tu che sono bravi È normale che te lo fanno tutti i colori Te lo devi aspettare Allora Adesso vi spiego Come funziona Stef nel mondo Si teletrasporta qua Azzecca perfettamente dove uno dei due E lo acchiappa Invece no Non ce l'ho fatta Ah però lo vedo Ok è entrato dentro la finestra Si è dovuto tuffare Quindi si è fatto male Perfetto Spacco pure il vetro Ok sono armati Io ho visto un macete Di conseguenza devo stare attento Uno contro due Ok l'ho preso No 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 Non mi picchiare Se la stanno giocando proprio bene questi due Però uno dei due Guardatelo È qua Ed è ferito Si sta cercando di curare il più in fretta possibile Poveraci Però Non ce la fanno Questa volta non ce la fanno Questa volta non ce la fanno Stanno scappando di lì Allora Devo acchiappare uno Prima che entri dentro casa Perché l'altro è già entrato E quindi Non lo potrebbe aiutare Dannazione Ce l'hai fatta No No Che sta andando Hanno un tempismo incredibile Eh lo so No poi quando sono Oh se ti ho preso con quel coltellino però Eh sì Sta urlando dal dolore Eh no quando sono in due Se sono bravi È difficile prenderli Ma che fanno Mi tirano petardi Ma te ma non avevo neanche distrutto la porta Ma siete rimas calzoni E da dove escono Mi stanno facendo arrabbiare Questi due sono proprio bravi Ah mi sa che sono ancora dentro casa però Sì 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 Ma i nostri sono insieme esattamente come noi Quindi sono strasuper Esatto Però No ne avevo un altro Che è successo Steppi Aveva un altro petardo Fere Cioè avevano la porta Se ne hanno usato due di fila Come fanno Come fanno Allora Venite qua Dove sono andati Dove sono andati Ok l'ho visto L'ho visto Adesso lo stendo Questa è la volta buona Questa è la volta buona Mi sa che è da solo Perché l'ho mancato Vieni qua Vieni qua Sei stanco Vero Non hai più voglia di correre Ammettilo Che non hai più voglia di correre Non provare ad entrare Oh Oh L'ho preso L'ho preso L'ho preso Finalmente Allora Allora Secondo me sei anche in zona Ok Perché ho sentito versi strani Giusto per dire Sì Dove sei Ma non ci vogliamo in casa Ma c'è pure Tommy Jarvis Eh sì Oh l'ho colpito Fuori Ma come Steph Come hai fatto Dalla finestra Ma come Uno in meno Fere Ma come ha fatto Cioè Ma fai schifo Scusami Caro mio Fai schifo Non è molto furbo Quel tizio Cioè perché si è attaccato Alla finestra A questo mi vuole sparare Vai sparami adesso Così sprechi il colpo Bravo vai Sono anch'io Steph Spara Ragazzi vi prego Perché mi fate queste cose Perché Che cosa bellissima Che cosa fantastica Buongiorno Buongiorno Facci in tempo a prendere l'altro Bene vado Sì 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 Almeno un colpo Ok l'ho preso Oh l'ho bloccato L'ho bloccato Ed un altro E' andato Fere Un altro E' andato Ho preso Tommy Jarvis Eh sì mi sa di sì Sei dietro di me quindi Allora ci sono soltanto Due persone in vita E io un'altra Esattamente Io però il fucile Le ha un'ascia Se lo vuoi sapere Ok E io credo Finirà male Perché non hanno fatto niente Io non ho trovato nulla Ho avuto una sfiga Incredibile Steph Ah sì Non hai capito la sfortuna Che ho avuto Raccontami Raccontami Volevo fare addirittura La fuga in barca Ci credi che non l'ho trovato Nel gas Nel Davvero Niente Che cosa strana E neanche il fusibile Per il telefono Quindi Non ci provare Vado a zico zago Vado a zico zago Sparo in faccia Sbettila Ok Ferre ti prendo Ti prendo Ferre Ti prendo Fermo E abbi il coraggio Di farti sparare in faccia Stai fermo Allora Zigo Zago Zigo Zago È una dichiarazione di guerra Tra me Ne manca solo una Nemici per sempre Ferre No no Prima abbiamo perso Con il tizio Che è riuscito a uccidere tutti Quindi ci dovevo riuscire anche io È andata all'estremo della mappa Guarda Guarda Cosa fa adesso secondo te Dovevo Non ha stamina È da sola Cosa può fare Niente Non ha armi Signorina Parliamone Parliamone Io voglio provare l'abilità 4 Perché ancora non ho capito A che serve Ok Lei mi ha trattato malissimo Bellissimo questo E se lo merita Vabbè però si stava difendendo Come funziona Ferre l'ho liberata Aspetta Vabbè Fatto Presa Presa Liberata però Signorina Ci ha provato È stata brava È durata tanto Però Steph È il Jason migliore del mondo E vince Ammazzando 7 persone Su 7 Tra cui anche la nostra amata Ferre Io non sono morta Che avrei voluto risparmiare Non sei morta Ferre Era un'illusione ottica Era un tossuosia E tu sei scappata Certo Ok Perfetto Ci credo assolutamente Ragazzi Lasciateci un like E se è la prima volta Che vi ho avuto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao